Io non avevo mai visto un SCP così brutto, ma che cos'è? Ma quanto danno fa? No, amici, solo per questa cosa e per questo grande ritorno voglio almeno 2000 mi piace. Dobbiamo ucciderlo, anzi, forse è meglio che scappiamo. No, no, scappiamo, scappiamo, scappiamo! Papà? 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 Cosa? Cosa? Dove sono finito? Dove sono finito? Io, oddio, io questo posto lo conosco. Questo è il labirinto degli SCP, ma cosa ci faccio qua dentro? E perché sentivo la voce di Marcino? Non sto capendo che cosa sta succedendo in questo momento. Burroni, bentornati in questo nuovo video sul canale. Non so che cosa sia appena successo. Mi trovo in un laboratorio degli SCP, sento un sacco di rumori, credo, di sleep killer, di zombie, di un sacco di altri animali che non ho mai identificato, ma io me lo ricordo questo posto. E riguardando l'inventario so anche benissimo che posto è, perché se vado qua dietro c'è la foresta di mangrovie, se non mi sbaglio, e dobbiamo stare molto attenti a questa foresta. Voglio capire e voglio indagare su che cosa sia successo. Questi libri mi ricordo di averli messi qua perché li avevo già letti. Ho visto Marcino divertirsi con gli occhi. Qui però c'è un libro, leggiamolo. Ho rapito tuo figlio e non è in buone mani. L'uomo triste potrebbe fargli qualcosa di davvero brutto. Aquila. Ok ragazzi, questa cosa potrebbe essere piuttosto, ma piuttosto interessante. Perché non lo posso più mettere qua dentro? Non si può più mettere qua dentro? Ricordatevi che noi abbiamo la skeleton key. Cosa significa con la skeleton key che possiamo aprire tutte le porte possibili e immaginabili, tranne quelle che hanno il lucchetto, che praticamente sono quelle con la combinazione. Io sento rumori di zombie e questo labirinto me lo ricordo più che bene. Qua dovrebbe esserci l'ex drone in realtà, perché qua non dovrebbe esserci più il drone. E se vi ricordate qui avevamo salvato Marcino una volta. Oh mio Dio, no 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 no. No, perché non mi ha attaccato questo creeper? È stato interessante come cosa. Non devi assolutamente farmi fuori. Quanto ci vuole per uccidere questo creeper? Con una spada! Ma è fortissimo! Ok, sono riuscito a ucciderlo. Mamma mia, con la spada in diamante non riuscivamo ad ucciderlo. E da questa parte che cosa c'è? Non ci dovrebbe essere nient'altro. Ci sono altri zombie, ma noi li lasciamo stare perché non ci interessa ucciderli zombie. Noi dobbiamo scoprire il segreto. Da questa parte ci dovrebbe essere SCP-049. E mi ricordo anche che c'era un 8, che era una delle combinazioni che potevamo schiacciare per aprire una determinata porta che non ricordo qual era. Adesso io provo a mettermi anche questo qua, che magari c'è qualcuno in giro che ci potrebbe dare fa... Stidio? Ma non mi fanno danno? Ok, non mi vogliono far danno. Quindi credo che finché io non ne tocchi uno, questi non mi fanno danno. O non so se è un aggiornamento strano di questa mod. Ma io direi che adesso ci togliamo questo visore notturno. E facciamo finta di niente perché sono leggermente spaventato da questa cosa. Giriamo da questa parte, cerchiamo di capire dove dobbiamo andare, dove potrebbe essere nascosto Marcino. Anche per il semplice fatto che io me lo ricordo tutta memoria questo posto. Però non so realmente se ci sono delle stanze nuove, se ci sono delle missioni nuove. A me sembra che per adesso sia tutto nella normalità. Qua dovrebbe esserci la stanza, SCP-002 se non erro. Andiamo a vedere se da questa parte troviamo qualcosa. Vediamo un po'. SCP-002. Esatto, SCP-002 è la stanzetta... La stanzetta, il salotto, non so come volete chiamarlo. Questo possiamo ucciderlo. E se non ricordo male, noi non avevamo potuto esplorare questa zona perché non avevamo i tappeti. E per andare a destruire questa zona servivano apposta i tappeti perché se no non potevamo camminare sui blocchi di questa stanza perché ci risucchiavano e ci ammazzavano tutti. Vediamo un po'. Ok, ci sono dei tappeti. C'è un libro e c'è anche un Gauss Rifle. Che cosa ce ne facciamo di un Gauss Rifle essenzialmente adesso? C'è un libro. Leggiamo il libro. Prima mangiamo un attimino perché credo che mangiare sia la cosa migliore dato che siamo già senza cibo. Leggiamo il libro. 0017. Che cosa puoi voler dire 0017? Potrebbe essere un SCP. SCP17. Vado a vedere che cos'è. Ok, SCP 017, quindi SCP 17, dovrebbe essere l'SCP Ombra che è stato trattato e ha anche scoperto Lion in un suo video. Io non l'ho mai visto questo SCP Ombra. Quindi potrebbe essere che sia in queste zone, potrebbe essere che ci colpisca da un momento all'altro. Non posso ancora saperlo. Adesso la cosa che mi viene più facile da dire è andiamo a continuare ad esplorare il nostro laboratorio anche se noi abbiamo money in fatigue, slowness, bad luck. Abbiamo tutte le cose più possibili e immaginabili. Ma mi ricordavo che noi avevamo una stanza delle panacea. Vi ricordate che c'era una panacea? Sono confuso. Non so neanche perché sono stato portato proprio in questo laboratorio. Guardate, vado lentissimo e questa cosa non va per niente bene. Io mi ricordo che c'era il laboratorio della panacea da qualche parte, però non mi ricordo dove cavolo poteva essere questo laboratorio. Da questa parte no, non dovrebbe esserci... Eccolo qua! Questo è il laboratorio delle panacea. Proviamo a vedere se ne prendiamo una, se perdiamo gli effetti, se ce ne sono ancora tante perché... Eh, l'avevamo prese tutte e l'abbiamo mangiate tutte. A me non sembra. Sono confuso. Non è che c'è qualcosa... Guardate, questi qua sono veramente tantissimi. Guardate, mi stanno seguendo tutti. Io adesso, se ho dei blocchi, ho dei blocchi, io li chiudo tutti, ragazzi. Li provo a chiudere tutti. Ok. Ok, si sono chiusi. Si è chiusa la porta perché? Se metti un blocco davanti si chiude la porta? E questa è una cosa molto interessante. Adesso, che cos'è questa cosa che abbiamo all'inventario? Spawn Manticore. Non me ne ero neanche accorto. Vediamo che cosa fa. Eh, forse non avrei dovuto far spawnare questa cosa, ma è un SCP? SCP? È un SCP per forza. Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è questa cosa? Non posso neanche colpirla. Non si può colpire. No, ragazzi, non si può colpire. Guardate. Mi fa un sacco di danno. Devo scappare. Devo assolutamente scappare. Devo assolutamente scappare. In qualche modo non so come scappare, ma devo scappare in qualche modo. Non ho dei blocchi. Come faccio? Aiuto, amici. Come posso fare? Ok, qua c'è una porta. Devo aprire sta porta e chiuderla assolutamente. Ok, lui da lì non può più passare. Perché finalmente siamo riusciti a liberarci di lui. Io adesso attenderei un attimo e spero che gli effetti possano passare, perché danno molto fastidio questi effetti. Direi che non sono passati solo 5 minuti, ma ne sono passati almeno 15, però gli effetti sono svaniti tutti dopo un po'. L'unica cosa che c'è rimasta è visione notturna che ci diamo noi, appunto, per vedere meglio. Perché senza visione notturna non si vedrebbe assolutamente niente. Io voglio capire adesso che cosa devo fare e dove devo andare per recuperare Marcino. Perché sinceramente non capisco dove potrebbe essere. Perché mi sembra di aver visto più o meno tutto. Oddio, da questa parte non sono ancora andato. Neanche da questa... Ok, qui non sono andato. Qui mi ricordo che... Ok, c'era un muro, ma mi sa che si poteva passare in qualche modo. Si può passare? Ok, qui c'è una porta e c'è un keypad. Perfetto. Potrebbe essere qua. L'ho sentito! L'avete sentito? C'è Marcino che parla! Dove sei, Marcino? Dove sei? Dove sei? Ma sento anche un uomo che piagna? In lontananza o sbaglio? L'uomo triste, poteva essere quello. Aspettate un attimo, noi qua abbiamo 0017. Non è che è il codice per entrare qua dentro? È il codice per entrare qua dentro. Ma cosa sono? Cosa fanno questi qua? Che cosa sono? Aiuto, aspetta, non riuscivo a prenderli. Non riuscivo a prenderli. No, vabbè, è finita. È finita. Siamo morti. Siamo morti, siamo morti. Siamo per forza morti. Siamo per forza morti. Siamo per forza morti. Eh, siamo morti. Però adesso sappiamo che in quel punto... No, 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 no. Ah, ok, non c'è più il tizio che ci dà fastidio. Però sappiamo che in quel punto lì, che è esattamente da questa parte, c'è Marcino. Io adesso voglio provare, dato che l'ho già aperto una volta, se me lo fa aprire con questa chiave qua. No, non fa niente. No, l'ha fatto. Ok. Potevamo farlo subito allora con questa cosa qui. Ok. Stai, dobbiamo uccidere questi qua. Dobbiamo ucciderli assolutamente. Io so che questi cosini qua responano da un momento all'altro. No, non posso uccidere, non posso ucciderli. Non posso ucciderli. Perché perdo vita. Perdo subito vita. Piano piano. Dovremmo farcela piano piano. Allora, quando continuiamo andrà aperto... Sarà difficile, ma ce la potremo fare. Questo qua può morire, per favore. E questo è quello più pericoloso e quello che mi dà più fastidio. Ok, questi sono tornati al loro posto. Io li farei venire. Li farei venire. Li farei venire. Mi serve un blocco assolutamente. Ce l'ho. Ok, mi stanno seguendo. Ok. Devo solo piazzare un blocco qua davanti. Ok, ho piazzato il blocco. Ciao, non potete più venire a darmi fastidio. E adesso che cosa volete fare, eh? Cosa volete fare? L'unica cosa che mi tocca fare adesso... Ma... No, non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Sono responati. Però io ho il Ghost Reifle apposta. Questo l'ho ucciso. E questo l'ho ucciso. E uccidiamo anche quello lì. Ok? Vediamo se qua dentro... Sei qui, Marcino? Lo sento, lo sento che dice papà. Lo sento che dice papà. Apriamo la porta. Cosa c'è? Ma... Che cos'è questa cosa? Ma è un SCP. Devo informarmi su chi è. Ma fa un sacco di... L'abbiamo ucciso. L'abbiamo ucciso anche lui. Marcino. C'è... Oddio. No, 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 no. Ok, siamo riusciti a uccidere. C'è Marcino. Arrivo. Arrivo, figlioletto. Ciao papà. Finalmente sei arrivato. Non ce la facevo più. Praticamente mi ha rapito questo SCP. Non so che coi sia. È tipo un uomo triste. Che è contenuto in questa cosa lì. Che non so se te ne sei accorto. Adesso io sto guardando al muro perché un pochino mi vergogno. Ma questa... Questa struttura qui sai che cos'è? Praticamente è una struttura che è una bomba atomica. Comunque adesso prendiamo e scappiamo. Grazie papà di avermi aiutato. Ma Marcino, ma non ti preoccupare. Però qualche volta potresti guardarmi. Lo so che non... Cioè ti vergogni un po' anche dei fan che non li vedi da un sacco. Però un minimo sarebbe... Vabbè. Marcino, cominciamo ad andare, va?